Che caldo che fa oggi! Ah ma sono in onda! Benvenuti nello spazio Croce SPA, dove ogni volta vi parlerò di oggetti utili e innovativi direttamente dalla collezione estiva di Croce. Oggi volevo infatti parlarvi della pettorina rinfrescante, un oggetto davvero facile da utilizzare. Basta infatti rimuovere i pratici sacchettini in gel e riporli in trigo per almeno un'ora. Quando poi sarete pronti per fare la vostra passeggiata, ricordatevi di reinserirli all'interno della pettorina, così facendo sarete sicuri che il vostro cane non patirà troppo il caldo estivo. Per altre utili informazioni vi invito a visitare il sito www.croci.net.it. Io vi do appuntamento settimana prossima, dove insieme vedremo un sacco di altri oggetti direttamente dalla collezione estiva di Croce. www.croci.net.it.